Benvenuti nel mondo di Charriol. Charriol è un marchio svizzero di orologi di lusso fondato nel 1983 dal designer Philippe Charriol. La sede dell'azienda si trova a Ginevra, in Svizzera. Charriol è noto per la produzione di orologi eleganti e di alta qualità, realizzati con materiali pregiati e innovativi come il cavo in acciaio inossidabile brevettato dalla marca. I cavi di acciaio flessibili e resistenti sono utilizzati come braccialetti e sono diventati un elemento distintivo del marchio Charriol. La collezione di orologi Charriol comprende modelli sia per uomo che per donna, con una vasta gamma di stili e funzionalità. Tra le funzionalità dei loro orologi troviamo le fasi lunari, i cronografi, la visualizzazione della data e altre complicazioni. Gli orologi Charriol sono realizzati con movimenti svizzeri di alta precisione, garantendo precisione e affidabilità. Uno dei modelli più noti di Charriol è il Saint-Tropez, un elegante orologio da donna con un cavo in acciaio inossidabile come bracciale. Il Saint-Tropez presenta numeri romani sul quadrante e una finestra di visualizzazione della data. Il design distintivo del cavo in acciaio lo rende immediatamente riconoscibile come un orologio Charriol. Charriol è anche noto per le sue collaborazioni con celebrità e atleti, come ad esempio la campionessa di tennis Maria Sharapova e il campione di Formula 1 Jul Bianchi. In sintesi, Charriol è un marchio svizzero di orologi di lusso con una reputazione di alta qualità e precisione. La collezione comprende una vasta gamma di stili e funzionalità, con un particolare focus sul design distintivo dei cavi in acciaio inossidabile. Gli orologi Charriol sono realizzati con movimenti svizzeri di alta precisione e sono un'ottima scelta per chi cerca un orologio elegante e di alta qualità.